ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su LikingTV come sentite c'è Anita con questo cielo mi manca insieme a noi queste sono le figurine che abbiamo spacchettato domenica e io sinceramente ho un po paura a fare questo cielo mi manca non so se fare cioè ero indeciso se farlo sì o no perché secondo me sono tutti doppioni secondo me secondo me adesso Anita ci darà una mano ci passerà le figurine una per volta e andremo a vedere se ci mancano veramente oppure no secondo me sono tutti doppioni però vediamo allora iniziamo dal Bologna la prima figurina che abbiamo qual è? oh no Zemari ci manca la 46 quindi va bene va bene va bene quindi non ci sta andando proprio male male già iniziamo con una messa poi quello è ursolini eccolo qui ce l'abbiamo quindi passano ursolini e doppione ce l'abbiamo poi dobbiamo andare al Cagliari quindi saltiamo tutto il Brescia e andiamo al Cagliari dove abbiamo la prima figurina che è Faragò col 102 no non me dice manca anche questa io a pensare che avevo veramente il terrore di fare questo cielo mi manca invece non sta andando male 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 no quindi va bene poi abbiamo Nandez del Cagliari questa ce l'abbiamo eccolo qui Nandez poi abbiamo la maglia del Genova quindi andiamo al Genova saltiamo la Fiorentina andiamo direttamente al Genova andiamo alla pagina dietro la maglia del Genova ce l'abbiamo è doppione poi dobbiamo andare all'Ellas, Ellas e Verona abbiamo la 186 e ce l'abbiamo eccolo qui poi la Lazio abbiamo trovato Parolo andiamo a vedere se ci manca l'Inter andiamo alla Lazio Juventus Lazio Parolo eccolo poi dobbiamo andare a Lecce 298 ce l'abbiamo Shakov dov'è Shakov no è Benzara ecco qua Benzara ce l'abbiamo e Shakov anche ce l'abbiamo eccolo qui 310 eccolo qui del Lecce ne abbiamo altre no dobbiamo andare al Milan ma questa ce l'abbiamo del Milan Reina ce l'abbiamo ce l'abbiamo comprata c'è manca solo lo scudetto del Milan poi Teo Hernandez eccolo Mirante della Roma mi pare che ce l'ho Mirante però andiamo a vedere e ce l'abbiamo ce l'abbiamo Mirante della Roma Kolarov subito dopo ce l'abbiamo eccolo Kolarov quindi altro doppione dobbiamo andare alla Samp Barreto ce l'abbiamo 451 eccolo qui Barreto poi 481 invece il Sassuolo e Burabia e ce l'abbiamo non so dov'è però c'è 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 sicuramente dov'è Anitta lo vedi eccolo poi andiamo alla Spal l'avevi già visto la 515 della Spal ce l'abbiamo Paloschi col 518 ci manca quindi va bene abbiamo messo tre un cello mi manca che neanche volevo fare perché pensavo di avere tutti i doppioni guarda vi dico veramente la verità poi andiamo al Torino dove ce l'abbiamo tutti quindi in Meite ce l'abbiamo e Baselli dove è Baselli eccolo abbiamo anche Baselli dobbiamo andare all'Ascoli quindi saltiamo tutte queste pagine centrali e andiamo alla Serie B dove dell'Ascoli abbiamo trovato la 601 che ce l'abbiamo poi che altro abbiamo il Chievo Verona Chievo Verona abbiamo trovato la formazione questa qui ce l'abbiamo altro doppione poi abbiamo trovato la 615 e ci manca dove c'è le verbe poi abbiamo Brio e poi abbiamo Rigione questa è la quarta figurina questo ce l'abbiamo mi manca ok poi abbiamo due doppioni il Cosenza abbiamo trovato due volte questa figura speriamo che a meno ci manca vediamo 630 eccole l'abbiamo trovata due volte nello spacchettamento di domenica poi prossima squadra è il Frosinone quindi Crotone Empoli Frosinone la 662 ce l'abbiamo eccola qui poi Salernitana Salernitana 712 ce l'abbiamo poi abbiamo il Trapani 729 anche questo è doppione poi il Venezia che ce l'abbiamo perché ce l'abbiamo tutte comunque del Venezia eccola qua poi abbiamo abbiamo Rasha Rasha Nangolan il Ninja il Ninja lo sai che Nangolan ha giocato nella Roma si il Ninja ce l'abbiamo eccolo qui no e poi abbiamo la 816 ma l'abbiamo finiti tutti noi questi qua eh mi mi sa che l'abbiamo finiti tutti gli scudetti della serie no ecco qua 816 è qui e ce l'abbiamo ci manca la 817 per finire gli stemmi della serie C ok ragazzi noi vi salutiamo ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti